Oh mio Dio che cos'è Devin? Ci sostituirà una IA? Sostituirà il developer? Non servirà più a niente? Qualche AI? Scriverà codice? Talmente bene che non serviremo più a niente? Vabbè, tutte le solite robe, no? È credo la ventottesima volta solo questo mese che leggo di un nuovo prodotto di AI che renderà il mestiere dello sviluppatore obsoleto. Non serviamo più a niente perché qualcuno in AI ci sostituirà. Ma sarà davvero così con Devin? Andiamo a vedere che cos'è perché magari avete sentito del buzz intorno a Devin e non sapete che cos'è. Andiamo un po' a vederlo perché dobbiamo poter parlare di Devin con cognizione di causa e proprio Cognition è la startup che ha creato Devin. Notare la finezza dei miei... Vabbè. Cognition, Cognition, Cognition Labs, lo trovate su Twitter come Cognition Labs, è la startup che ha creato questo Devin che non è altro che un nuovo LLM che genera codice più una serie di tool, di interfacce per utilizzarlo che, insomma, fa anche delle affermazioni abbastanza forti. Andiamo a vederlo dal tweet di presentazione. Dice... questo tweet è del 12 marzo, quindi vedete siamo ancora abbastanza freschi. Allora, oggi siamo eccitati di presentarvi, siamo felici di presentarvi Devin, il primo AI software engineer, quindi il primo programmatore AI, software engineer AI, che, faccio notare, è già un'affermazione abbastanza forte, no? Cioè Devin sarebbe il primo AI software engineer. Quindi cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Cioè copilot, cos'è stato copilot? Ma tutti gli altri, no? Ma con qualunque... anche con LAMA si può scrivere codice. Con qualunque AI generativa addestrata, quindi che nel dataset contiene delle codebase, ci può poi scrivere codice, quindi come mai Devin è migliore degli altri? È un claim. Credo che sia più che altro un claim proprio commerciale. Non ha nessun senso definire Devin il primo AI software engineer, perché appunto pure gli altri erano software engineer. Possiamo poi andare a confrontare le performance o l'interfaccia, insomma, il modo con cui possiamo usare Devin. Però, ecco, definire Devin il primo AI software engineer mi pare quantomeno un po' forte, come affermazione. Quindi immagino che sia più che altro, ecco, così, una roba commerciale o per trovare investitori o che ne so. Comunque questo è come si apre questo comunicato, ecco. Vado avanti. Devin è il nuovo stato dell'arte nello SWE bench, coding benchmark. SWE bench, SWE bench, vabbè, SWE, S-W-E, insomma, questa sigla significa software engineer, praticamente. Non so perché ci mettono la V, ma è software engineer. SWE è software engineer. Quindi SWE bench è un benchmark creato da dei ricercatori che hanno scritto proprio un benchmark per il legend language model che vogliono generare codice. Lo trovate su SWE bench.com e vedete c'è anche il paper, insomma, proprio un'attività di ricerca che va a testare le performance degli LLM, dati, insomma, dati come problemi, come prompt, delle issue di GitHub. Quindi loro gli danno le issue di GitHub e vedono quali di questi LLM riescono a risolverli, con quale performance, e poi misurano le performance e le comparano. Quindi vedete che, per esempio, nella classifica dei migliori LLM che rispondono a sue bench, vedete che il primo è Cloud 2. Tra l'altro vi faccio notare che è del 2023 ottobre, quindi è già un po' datata questo benchmark a qualche mese. Infatti adesso è uscito Cloud 3, qui invece c'è Cloud 2, poi c'è una lama, sono due lama customizzati, c'è uno SWE lama, quindi immagino che abbiano fatto un po' di fine tuning. Poi c'è GPT35, GPT4, insomma, questa è la classifica per gli unassisted, vedete che ha fatto una percentuale di risoluzione di circa il 2%, Cloud 2 e poi giù. E poi c'è invece quello di assisted, dove invece la classifica rimane uguale in termini proprio di posizionamento, però la percentuale delle issue risolte è molto più alta. Faccio notare che è molto molto bassa la percentuale delle issue risolte dagli LLM, cioè si parla di 2% per Cloud 2 unassisted, 480 per Cloud 2 assisted. La differenza tra unassisted e unassisted è questa, che gli unassisted non hanno nessun tipo di assistenza umana durante l'analisi del problema, del prompt. Mentre invece assisted sono modelli a cui vengono passati i file da modificare, proprio da qualcuno che viene definito Oracle, che gli aiuta proprio a trovare i file da modificare nel pull request. Faccio notare peraltro che Oracle è una parola che era usata da Alan Turing nel famoso paper sul Chem Machine Stink, no? Per l'intelligenza ufficiale. Se cercate quel paper troverete Oracle citato come appunto qualche strumento che aiuta la macchina di Turing. Vabbè, non vado avanti, però Oracle si riferisce, immagino che abbia quell'origine lì, ecco, da Turing. Comunque, questa è la classifica dello Sue Bench, quindi Sue Bench è proprio il benchmark per testare la qualità, le performance di un Coding Assistant AI. Quindi, Devin è il nuovo stato dell'arte sullo Sue Bench benchmark, perché ha superato practical engineering interviews, cioè non solo, ha anche superato dei colloqui da engineer from leading AI companies. Quindi hanno fatto partecipare Devin ai colloqui di engineering da AI company e lui li ha passati. Faccio notare anche problemini con questa frase qua, non c'è scritto il numero di colloqui, quindi non sappiamo la percentuale, cioè li ha passati tutti? Quali ha passati? Quanto erano complessi questi colloqui? Non so come la pensate voi, ma i colloqui delle aziende tech, qua non so, le aziende AI sarà la stessa cosa. Spesso sono dei documentoni standard, dei falloni standard, dove ti danno dei problemi, risolvimi questo problema, risolvimi quest'altro problema. Tu codi la tua, scrivi la tua soluzione, ma problemi proprio di ingegneria, algoritmici, algoritmici. Quindi risolvi questo problema, applica questo algoritmo, bla bla bla, rifattorizza il codice, cose così. Quindi task abbastanza standard rispetto appunto alla posizione di crescente difficoltà, insomma sulla posizione da coprire. E quindi il fatto che un assistente AI riesca a risolvere problemi dati durante un interview, penso che sia abbastanza comune, nel senso che comunque la letteratura intorno alle job interview tecniche è abbastanza ampia. Ormai si sa quali sono i problemi che vengono più spesso proposti. Quindi credo che ci sia un altro problemino proprio su questa frase qua. Cioè, Devin passa le engineering interviews, ma dovremmo un attimino sapere quali sono queste engineering interviews, che tipo di problemi gli hanno posto, eccetera. Vabbè. Poi ha completato il real job su Upwork. Ora, Upwork è un sito dove si trovano lavori per freelance. Ecco, quindi ci sono clienti che postano dei lavori da fare. Il freelance va su Upwork, becca un lavoro, lo risolve, prende gli soldi per quel lavoro lì. Quindi spesso sono lavori molto semplici, circostanziati e anche spiegati in un certo modo. Sullo spiegati, tra l'altro, ecco, vorrei rimanere un attimo su questa, perché anche qui mancano le percentuali. Cioè, non sappiamo quanti lavori ha completato su Upwork, in base a quali criteri sono stati cercati questi lavori, come erano spiegati, come erano i prompt, tra virgolette, di questi lavori. Perché un grosso problema qua, ma l'avrete capito, no, nelle AI generative, è spiegargli che cosa fare. Cioè, spiegargli il problema da risolvere. Cioè, risolvere un problema va spiegato qual è questo problema. È lo stesso problema che hanno le aziende a farsi aiutare dagli sviluppatori umani. Cioè, spiegargli qual è il problema, come possiamo risolverglielo. E quindi spiegarlo anche all'AI è parte del lavoro, no? Quindi qui bisogna capire quali, cioè, come hanno fatto a trovare i lavori giusti su Upwork, qual è la percentuale di lavori giusti che poi Devine ha risolto, in base a quelli che non ha risolto. Insomma, mancano un po' di dati. Fin qui, se volete sapere la mia, è proprio fuffa commerciale. Cioè, siamo bravi, siamo belli, siamo i migliori. Potevano scrivere, Devine è il migliore, più o meno è la stessa cosa. A livello di informazioni che ci fornisce, più o meno è la stessa cosa. Devine è bellissimo, più o meno ci dà lo stesso livello di informazioni di queste frasi. Poi dice, Devine è un agente autonomo, autonomous agent, che risolve task di programmazione attraverso l'uso di una sua shell, un code editor e un web browser. Ora qui ci state dando qualche informazione in più. Cioè, che Devine può usare almeno tre strumenti contemporaneamente. Quindi una shell, quindi può scrivere i comandi su una shell, un editor di codice e un web browser. Ora, se voi andate su una AI generativa come Find, per esempio, specificamente destinata al coding, che può anche navigare su internet, e gli date un task di programmazione da effettuare, cosa fa? Find vi dà prima i comandi shell da dare. Per esempio, se voi gli chiedete generare un'app React, lui parte con i comandi a shell per creare, per bootstrappare un'app React, e poi dopo vi dà il codice che magari serve per quel task specifico. Dopodiché, web browser significa semplicemente che lui può andare a navigare su internet, e quindi prendere informazioni anche da documenti che trova sul web. Quindi, dietro le quinte dei maggiori LLM destinati, dedicati alla programmazione, queste cose esistono già. Quindi non c'è neanche qui nulla di nuovo, non totalmente nuovo. Però bisogna vedere un po' come li usa questi... ecco, in che modo vengono usati questi tre tool. Andiamo a vedere meglio nella demo. Allora, quando è stato valutato sullo SWEBENCH, sul benchmark SWEBENCH, che chiede a un AI di risolvere le issue GitHub trovate in Real World Open Source Project, Devin ha risolto il 13,86% delle issue unassisted, molto di più del precedente state-of-the-art model dell'1,96%, l'abbiamo visto. Claude era l'1,96%, quindi invece Devin ha risolto il 13,86%, che è 10 volte, più di 10 volte la quantità di issue risolte da Claude 2, che parebbe effettivamente abbastanza strepitoso. Siamo comunque... adesso, giratela dall'altra parte. Devin non è riuscito a risolvere l'87% delle issue che abbiamo dato da GitHub. Quindi da qui, se prendiamo questi raw numbers, solo questi numeri, e proviamo a dire che Devin può sostituire un programmatore umano, beh, però non riuscirebbe a risolvere l'87% delle issue GitHub. Quindi siamo davvero sicuri che l'AI sostituisce uno sviluppatore. In base soltanto a questi numeri no. Poi il progresso effettivamente c'è, perché partiamo dall'1,96%, arriviamo al 13,86%, insomma c'è effettivamente un bel salto. Però ecco, finora questi numeri ci stanno dicendo che siamo in una fase di forte progresso verso un LLM che davvero vada a affiancare, quantomeno, un essere umano. Ma per la sostituzione di un software engineering con una certa esperienza siamo ancora abbastanza lontani. Non dico che non bisogna essere preoccupati di questo, perché preoccuparsi di essere sempre meglio di altri sviluppatori o di macchine che possano sostituirci dovrebbe essere la priorità di quanti qualsiasi sviluppatore sul mercato. Però ecco, invece il claim che Devin è il primo AI software engineering e che non ha più senso studiare programmazione perché ci sono le AI come Devin che si sostituiscono, insomma, penso che non abbia molto senso. Però vediamo anche un po' meglio che cos'è Devin a livello di prodotto, come si presenta, come si usa, che cosa ci può fare, poi facciamo qualche considerazione. Per farlo ho visto il video di presentazione però su YouTube, così è un pochino più grande, è un pochino più comodo. Allora, faccio partire il video, spero che si senta bene. Vediamo Devin in action. Ecco, vedete, questa è l'interfaccia di preview di Devin, preview.devin.ai e c'è una waiting list, se volete provarla anche voi, e poi quando sarà sbloccata, ecco, potete andare su preview Devin AI e provarla anche voi. Io non mi sono iscritto per adesso, non mi interessa particolarmente, però, ecco, se volete fare un giretto, quando arriverà il vostro turno, sbloccheranno la waiting list, potete vederlo. Vedete un po' questa è l'interfaccia di Devin, un po' diversa dal classico chatbot a cui siamo abituati, perché lo schermo è diviso in due parti, quindi sulla sinistra vediamo la classica chat, quindi il prompt da mandare, sulla destra invece vediamo un workspace, nel workspace c'è la shell, il browser, l'editor e il planner, poi vedremo che cos'è. Qual è il prompt che gli dà? Quindi vorrei che facessi del benchmark su Lama 2, su tre diversi provider, replicate, together e perplexity. Quindi capisci le API, il formato delle API di questi tre provider e scrivi uno script che manda lo stesso prompt a tutti e tre, in modo da fare dei benchmark di Lama 2. Questo è il task dato a Devin. Faccio notare che è un task piuttosto semplice per uno sviluppatore, cioè prendi, cerca la documentazione di questi tre API, guarda qual è il comando da fare, insomma, qual è l'endpoint da contattare e con quali parametri per fare benchmark su Lama, insomma, e scrivi uno script che mandi queste richieste a HTTP. Questo dovrebbe essere il task da fare. Quindi lo chiediamo a Devin. Vedete che subito Devin ha aperto una shell, una shell su, immagino, una macchina in cloud che sta sul cloud di Devin, credo, non lo so. Ne ho sì. Ecco, questo è il planner, no? Cioè lui si scrive un plan step by step delle azioni che bisogna fare per andare appunto a completare questo task. Faccio notare che è più o meno la stessa cosa che fanno gli altri, cioè anche su find, se voi andate oggi su find, scritto p-h-i-n-d, che nella versione più piccola, con meno parametri, è gratuito, vi fa più o meno la stessa cosa, cioè ve lo spiattella davanti in chat, però fondamentalmente divide la sua azione in step. Quindi cosa fa? Si è creato un plan con i suoi step, quindi ricercare la documentazione dell'API, scrivere un Python script che fa la richiesta HTTP, implementa, calcola il tempo di risposta, eccetera. Quindi questo è il plan di risposta. Un plan di risposta per capire il problema. Dopo questo, si è creato un progetto usando tutte le stelle stesse strade che un software ingegnero di software umano potrebbe usare. Ah, vedete, qui... Adesso ti ha anche chiesto l'API keys di tutte le cose, perché chiaramente lui ha bisogno per andare a interrogare queste API delle API keys, in un'altra finestrina, ha diviso lo schermo in quattro, vedete che in un'altra finestrina qua ha il browser, quindi va a vedere proprio la documentazione dell'API, e vediamo che fa. E ha un code editor dove scrive le API keys dei servizi da contattare nello script. Tra l'altro, bad practice di mettere le API keys nel codice, qui, ecco, questo è un grosso problema delle AI generative, in generale, non solo di Devin, cioè che tutto bene finché si tratta di risolvere un piccolo task, però in quanto a best practice di security andiamo molto male, non solo di best practice di performance, ma anche di security andiamo molto male. Infatti questo è un classico esempio, non mettete le API key nel codice, ci sono altri modi. in questo caso Devin decide to use the browser to pull up API documentation, so that it can read up and learn how to plug into each of these API's. Cerca su Google, trova la documentazione, va a leggerla. Ecco qua, interessante. Cioè qui adesso, una volta che lui ha trovato la documentazione di queste API, ha scritto uno scriptino Python con le nostre API key che gli abbiamo dato per fare queste richieste, gli è uscito un errore, l'ha eseguito perché lui non solo crea comandi shell, ma lui proprio ha accesso a una shell, e poi quindi può eseguire comandi, tra l'altro è un po' pericolosa sta roba, se volete la mia, però può eseguire comandi su una shell, quindi la esegue, vede che lo script Python gli ritorna un errore, che cosa fa? Corregge il codice che stava scrivendo in base a questo errore. Quindi va a fare una modifica. Devin decide to add a debugging statement. Qui fa proprio un debug by print, quindi tutti quelli che dicevano studiate gli software di debugging, perché per debaggare il codice serve il debugging. No, hanno ragione tutti quelli che dicono che basta mettere dei console logo, dei print nel codice. Quello è il miglior modo per debaggare, lo pensa anche Devin, che mette i printf nel codice per vedere proprio lo stato dell'esecuzione dello stack in quel momento, e poi va ad analizzare le stringhe in output per modificare il suo codice. Quindi vedete che proprio aggiunge dei print. Dove c'è l'errore? Rilancia il codice. Quindi questo è anche interessante. Lui trova un errore, va a fare delle modifiche, rilancia lo script, poi trova un altro errore, va a fare altre modifiche, rilancia lo script. C'è un approccio che cerca costantemente di reiterare l'esecuzione del codice fino a che risolve un errore. Probabilmente, tra l'altro, continuando anche a utilizzare le risorse della macchina su cui gira, nonché dell'API endpoint, che se vi chiede i soldi per ogni volta che chiamate, potrebbe costarvi un po' caro. Attenzione a far eseguire degli script che vanno a chiamare dell'API con la vostra chiave, ecco, a un'intelligenza artificiale. Potrebbe poi drenarvi i soldi. Vedete, questo è l'output dei print che lui ha messo nel codice. Quindi li usa per analizzare. Finalmente, Devin decide di build e deploy un website con il full styling come la visualizzazione. Ecco, quindi lui cosa ha fatto? A questo punto ha finito di scrivere gli script, l'esecuzione è andata a posto, non ha più errori, quindi ha reiterato finché lo script non ha avuto più errori. Quando è riuscito a terminare questo suo task, cioè ha gli script che funzionano, non si è contenta. Lui esegue questi script, ottiene i risultati e crea un sito, una mini dashboard, insomma una mini pagina web per mostrarvi i risultati. Dove la crea? Su Netlify. Vedete che qua ha creato una app su Netlify e quindi potete andare a vedere i risultati di questo benchmark su Netlify. Eccolo qua. Praticamente li ha organizzati in modo visuale creando una piccola paginetta web che ve li fa vedere. Quindi il risultato è del vostro task. Ecco, questo è quello che dicevamo prima, Questo è lo SweBench con l'incredibile successo di Devin rispetto agli altri. Ovviamente. Puoi provare Devin su Real World Task. Ecco. Se volete testare Devin scrivetesi un task reale e noi ve lo risolviamo. Quindi se avete un task che vorreste mandare su che ne so su Upwork o su che ne so dove chiedete i lavori da freelance potete mandarlo direttamente a Devin. Poi tra l'altro vabbè un po' di reazioni no? dal community su Twitter e poi ci sono un po' di altri di altri prompt ecco di altri test fatti con con Devin ecco lo che insomma i risultati che Devin ha tirato fuori quindi quindi cosa abbiamo imparato su Devin che fondamentalmente fa uno step in più rispetto agli LLM cioè non solo ci genera il codice o ci genera i pezzi di command line che dovremmo eseguire per tirare su l'ambiente per farci appunto testare il codice che ci dà in esecuzione e non solo dobbiamo essere noi eventualmente a suggerirgli anzi a girargli gli errori degli script che lui ha fatto scrivendo quel codice in modo che poi possiamo risolvere noi in questo caso Devin ci pensa lui esegue il codice prende i risultati dell'esecuzione se c'è un errore si stampa il trace eventualmente reitera finché riesce a risolvere e poi ci dà il comodo output formattato anche in una pagina web che possiamo fruire quindi cerca effettivamente di rispondere alla nostra richiesta come se fosse un essere umano ecco perché il claim commerciale è the first AI software engineer perché è come se fosse un tizio dall'altra parte del mondo a cui diamo un task e con cui possiamo anche conversare fino a che questo task è completo end to end cioè non solo abbiamo lo script che poi possiamo eseguire per creare per risolvere il problema ma ci dà anche in mano proprio la confezione il prodotto completo che risolve il nostro problema quindi gli abbiamo chiesto di fare dei benchmark lui ci ha dato i benchmark non ci ha dato il codice che si serve per risolvere i benchmark ma proprio ci ha dato una paginetta web con i benchmark eseguiti questo è un po' lo stato dell'arte a cui si riferiva appunto cognition e quindi quello che potrebbe sostituire effettivamente un programmatore credo di livello abbastanza bassino questo task era abbastanza easy da risolvere poi naturalmente se è davvero una soluzione molto più avanzata di copilot o di cloud possiamo aspettarci che ci risolva cose un pochino più complesse di contattare un API con gli endpoint HTTP quindi in definitiva dobbiamo preoccuparci degli assistenti AI che ruberanno il lavoro di noi software engineer i quali dovremmo praticamente darci all'agricoltura come ci suggerisce il CEO di Nvidia beh secondo me se vi preoccupano gli gli LLM gli assistenti AI che generano codice in questo modo probabilmente non siete il tipo di sviluppatori che interessano in questo momento al mercato cioè al mercato globale tra l'altro ovviamente funestato da layoff di vari livelli ecco siete probabilmente di un livello ancora un po' troppo basso per andare proprio a buttarvi a competere in questo mercato siete a livello proprio risolvo il 13% delle issue GitHub forse nemmeno che comunque è un livello molto basso rispetto a quello che cerca il mercato se volete competere dovete fare un po' uno step up a livello proprio di qualità delle soluzioni software di codice che proponete ma la mia opinione personale in questo quindi prendetela come opinione poi vedete voi discutiamone è che noi come software ingegneri non possiamo accontentarci di essere dei risolutori di task che leggiamo da Upwork o da GitHub ne risolviamo e diamo la soluzione ma come sviluppatori dobbiamo proprio alzare un po' lo sguardo alzare un po' il livello dovremmo mirare a diventare degli architect qualcosa che qualcuno che sappia controllare un team far lavorare insieme meglio un team un team che magari un domani o anche molto prima potrebbe essere composto da sviluppatori AI o meglio come la vedo io da sviluppatori umani affiancati da sviluppatori AI potrebbe essere anche una cosa mista però il compito di noi software engineering è puntare alle posizioni che richiedono appunto task di coordinamento di decision making quindi di essere in grado di prendere delle decisioni proprio formate informate sul mercato sulle tecnologie da scegliere sul rapporto con i clienti che sono tutte cose sottovalutate naturalmente e anche nel rapporto con vari livelli della nostra stessa organizzazione della nostra stessa azienda quindi una serie di skill che gli assistenti AI non hanno che noi invece dovremmo andare a coltivare perché è lì che si giocherà quella partita in futuro quale azienda preferirebbe uno sviluppatore umano a uno sviluppatore AI se fanno lo stesso identico lavoro nessuna chiaramente nessuna azienda fa beneficenza e viene a pagare voi se svolgete il task che svolge già Devin dobbiamo fare un passo in più e non è la paura che può guidarci nelle nostre scelte di carriera non possiamo avere paura di questo ma in generale dobbiamo sempre puntare a scalare andare sempre più in alto perché altrimenti ecco la competizione ai livelli più bassi sarà sempre più feroce se non c'è Devin ci sarà un altro software ci saranno altri sviluppatori magari di altri paesi del mondo che arriveranno a fare le stesse cose che facciamo noi magari chiedendo appunto meno soldi alle aziende quindi il discorso è sempre quello non possiamo accontentarci di quello che stiamo facendo delle cose che sappiamo oggi e di come le stiamo eseguendo oggi dobbiamo cercare di fare un po' uno step up e migliorare e quindi renderci anche più appetibili alle aziende che ci cercano Devin nonostante non sia il primo AI software engineering è un buon esempio di un qualcosa che potrebbe sostituire i task più semplici che noi oggi ci sentiamo in grado di fare quindi noi dobbiamo andare a un livello più alto Devin può fare o chi per lui potrà fare le cose più basse faccio notare che domani Devin sarà sempre meglio quindi dobbiamo starci sempre di più comunque loro fanno queste cose qua noi però come programmatori e come architect come conoscitori delle tecnologie del mercato e degli esseri umani che sono poi la variabile più interessante all'interno di un team di sviluppo software e tra gli esseri umani naturalmente c'è il cliente e il cliente è quello che ci dà il prompt e il prompt non è scritto bene come lo scriveremmo noi a Devin bisogna un attimo capirlo quindi in tutte queste cose il software engineering è qualcosa di un pochino di più di un mero esecutore uno scrittore di codice questo comunque era Devin questo è quello che per il momento è lo stato dell'art apparentemente del coding assistant AI noi però insomma cerchiamo di essere un pochino meglio ciao